Mi chiamo Filippo Negro e mi è stato chiesto di pensare un progetto per l'asienda Testi nel contesto di Marmoma. Questo progetto dimostra della volontà di creare prima di tutto un mobile funzionale. La sfida era abbinare i due materiali per cercare di innovare sia sull'uso sia sulla lavorazione di questi materiali e l'abbinazione di questi materiali. L'idea iniziale era di fare come un'alcove, una nicchia dove l'utente poteva anche entrare dentro e quasi passeggiare dentro come si faceva anche nei camini del medioevo dove l'utilizzatore entri e facendo questo passo, entrando proprio fisicamente in questo mobile si crea un ostaco tra il fuori e il dentro. In questo progetto l'idea era di usare il marmo come materiale strutturale in verticale con tutte le spalle con lo stesso spessore di circa due centimetri di marmo pieno, invece di trattare tutti gli orizzontali in legno naturale, quasi grezzo, soprattutto quando si vede di fianco alla libreria compare più il marmo a vista, invece quando si sta davanti, perfettamente davanti alla libreria si legge più il legno. Il peso visivo dello spessore del piano è stato proprio più evoluto come effetto estetico.